Dopo mesi di indagini mirate e segnalazioni frequenti da parte dei residenti, i carabinieri di Dolo hanno denunciato 10 minorenni alla procura di Venezia. Violenza privata, furto, rissa, lesioni personali, danneggiamenti, ricettazione e disturbo della quiete pubblica. Sono i reati di cui si sarebbe resa responsabile la baby gang formata da ragazzini tra i 14 e i 19 anni che avrebbero agito tra aprile e novembre 2022. Un furto in un supermercato, danneggiamento di un'auto, furto di oggettisti cavari all'una parca della Sagra Paesana, oltre tre ciclomotori parcheggiati nei pressi delle scuole. Anche molti istituti scolastici sono stati presi di mira dalla baby gang che oltre a essersi resa protagonista di risse ha provocato danneggiamenti sia nelle aree esterne sia in quelle interne prendendo di mira le tastiere dei computer o le macchinette del caffè. Ancora la notte di Halloween avrebbero rubato materassi da un deposito rifiuti dell'ospedale con l'obiettivo di crearsi una specie di bivacco. Ragazzi conosciuti che lo stesso sindaco ha più volte cercato di far desistere. Abbiamo messo in campo tutte le forze possibili dai servizi sociali alle associazioni sportive ma di fondo c'è una incapacità di porsi di questi ragazzi in dialogo con l'autorità che in parte un po' anche si rifiuta ma nel momento in cui come ho fatto all'inizio li ho portati addirittura nella sala del consiglio comunale per far capire che si deve entrare dentro e ciascuno deve fare la propria parte a cominciare anche da chi ha le scuole medie piuttosto che superiori. Siamo quindi ad un giro di boa pesante, mi rendo conto, ma che deve spronarci tutti a riposizionarci anche in un ruolo collettivo, comunitario, formativo dove anche non aver più paura di dire guarda che questo non lo puoi fare per questi motivi. Sappi che se sbagli paghi.